qui davanti con un caloroso applauso sorgentino grazie fratello Archetto per essere qui con noi un caro saluto ti chiediamo di portare i nostri statuti alle chiese di Anzio di Belletri la sorella Teresa che purtroppo avrebbe dovuto essere qui con noi ma purtroppo non è stato possibile grazie pastore Samuele Dio vi benedica a tutti gloria al Signore e vabbè scontato fino a un certo punto dirvi che veramente c'è una grande gioia eh nel mio cuore avere avuto l'opportunità di rivedervi dopo qualche tempo ieri siamo stati benissimo insieme il Signore ci ha benedetto voglio ringraziare il Signore voglio ringraziare il pastore Samuele Vellerito sua moglie Anna tutti quanti voi Dio vi benedica vi devo portare il saluto di mia moglie perché qui le cose cambiano continuamente eh il programma era quello di venire qui insieme poi noi abbiamo un figlio nostro che lavora a Reggio Emilia nella Polizia di Stato e eh insieme a sua moglie abbiamo un nipotino Jeremy eh ci hanno chiesto un è nata un'esigenza immediata e ci hanno chiesto se poteva rimanere mia moglie eh lì qualche giorno e quindi abbiamo cambiato il programma poi vabbè avremo modo di vederci qui stamattina il loro desiderio era quello di raggiungerci ieri sera mi danno la notizia che il nostro piccolo Jeremy alla febbre quindi saltano tutti i programmi insomma non se ne può più allora aveva ragione l'apostolo Giacomo quando diceva ma non dite domani faremo andremo dovete dire se Dio vuole perché poi alla fine noi programmiamo ma deve essere poi sempre il Signore che deve firmare nulla osta se no non si va da nessuna parte perdonate questo questa mia terminologia ho sempre questo eh legame al mio lavoro quindi si parla sono un amministrativo un semplice impiegato e quindi ogni tanto vado un po' a quelli che sono un po' le le diciamo il modo di fare nei nostri uffici è necessario avere le opportune autorizzazioni quando qualcuno viene nell'ufficio dice ma io ho visto aperto quel negozio come mai hanno fatto quella manifestazione e io rispondo sono regolarmente abusive perché si sono svegliati una mattina ma non hanno il supporto normativo e quello deve essere anche la nostra preparazione vanno bene tutte le cose tutte le iniziative va bene però dobbiamo avere sempre il sostegno della parola di Dio se vogliamo andare sul sicuro se poi vogliamo sbattere contro il muro e beh quella è una nostra scelta personale però se possiamo evitarlo e sarebbe meglio e oggi pomeriggio sarò anche nelle comunità di Lodi avremo due culti nel pomeriggio poi se Dio vuole domani rientriamo a quelli che sono i nostri impegni mi affido alle vostre preghiere e credetemi dal profondo del cuore sono veramente contento di stare qui con voi mi sento a casa mi sento nella famiglia e quindi si perdono tutte quelle emozioni che magari ti contraggono ma io avverto una grande libertà e come accennava già il pastore Pellerito si sente la presenza di Dio la presenza del Signore è quella che fa la differenza sono contento di vedere tanti giovani cosa è incredibile e chi l'avrebbe detto che ha sesso San Giovanni molto 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 bene io credo di avere qualche possibilità sapete perché di parlare anche a quelli che hanno qualche anno in meno al mio anche perché io mi sono convertito nella mia adolescenza ho dato il mio cuore al Signore avevo 15 anni venne a sapere di questa realtà e anche se vivevo perché non ho avuto traumi in famiglia è una bella famiglia protetto circondato non è che c'avevo problemi perché purtroppo non è sempre così ricordiamoci ci sono tantissimi giovani che hanno delle situazioni disastrose terribili io stavo bene e quindi potevo dire ma è che mi interessa molto il messaggio della salvezza però vi devo confessare una cosa io avevo un'angoscia qualcosa che non sapevo spiegare che non mi faceva riposare non mi faceva dormire non mi faceva stare tranquillo non so perché era una cosa che non sapevo spiegare un terrore continuo che mi accompagnava tutti i santi giorni della mia vita finché ebbi l'opportunità non ricordo la predicazione so soltanto che io quella sera pensate 46 anni fa e il diavolo mi diceva due cose due cose non vi scandalizzate fratello ma che due cose mi ha sempre detto ma io voglio dare ragione ogni tanto bisogna spezzarla una lancia a favore del nostro avversario mi ha sempre detto archetto sentivo la sua vocina tutti devi convertire sembra incredibile che il diavolo eh sì e me lo diceva però aggiungevo un'altra frase ma non adesso termina gli studi cerca anche di avviare una relazione fidanzamento dopo dopo questa è stata la prima cosa che mi diceva convertiti ma non subito con calma e senza insomma vai piano piano e io mi devo dire che un po mi lasciavo convincere dice ma quanto è bravo che poi non è così cattivo perché a me fa più paura la bibbia dice che quando satana si presenta a noi c'ha due forme o viene come un leone ruggente o viene come un angelo come leone ruggenti io proprio di natura scappo subito ma come un angelo è dolce è affabile e più delle volte riesce molto con questa macchinazione non dico strategia perché strategia è nobile macchinazione cattiva e maligna però Dio si ha lotato lo spirito santo ha fatto un grande lavoro oh signore ci è voluta tanta pazienza quando i fratelli mi vedevano dice questo è un caso disperato questo non si converte mai mi facevo tutte le scuole domenicali di questo mondo ma era una cosa che non riuscivo proprio niente da fare ma Dio si è odato quel giorno arrivò era il 26 luglio del 1977 io risposi a un appello ancora oggi ne sono commosso perché io non credo avere detto molto c'era una cosa che mi bloccava sembro quasi disinibito aperto lo sono perché i napoletani sono tutti io avevo vergogna dei miei cioè se se io avessi saputo che in quell'incontro c'era un mio familiare per me poteva scendere l'angelo gabriele e predicare io non rispondevo mai a nessun appello oh vi sembra una cosa strana ma per me era un problema finché arrivò un giorno non c'erano i miei e io risposi a questo appello so che quando poi Gesù entrò nella mia vita io mi sono sentito cadere dalle spalle qualcosa di fisico come se mi sentivo leggero ed era la presenza di Dio da allora non ho avuto più vergogna e poi dopo tre giorni perché allora c'era sta fissazione oggi grazie a Dio è sparita Dio sia odato che tu ti dovevi far battezzare subito con lo spirito santo erano cattivi questi fratelli ma c'è niente una cosa oggi grazie a Dio c'è tanta pazienza ma beh ma è il contesto storico culturale nel quale io mi ritrovavo a vivere e quelli sai ma te sei fatto battezzare mi sono convertito un giorno un giorno ancora cioè e devo dire che il signore poi nella sua immensa misericordia visse proprio vide il mio stato d'almice no questo qua sono questo me lo me lo fanno stare male mi battezzò proprio per ultra misericordia ci battezziamolo perché insomma è la prima cosa dicevo ho detto che era la sua affabilità del nemico quando poi visto che il passo l'avevo fatto ed ero ero diciamo svincolato dalle sue grinfie perché uno lo deve sapere che se non è figlio di Dio è figlio di satana non è che c'è una via di mezzo non c'è una zona grigia poi bianco e nero l'altra cosa mi diceva ma tanto tu non duri e avevo difficoltà con i miei amici perché mi lasciarono che ero come loro e quando rientrai da queste esperienze io provavo ad avvicinarmi a un certo punto loro mi hanno detto senti archetto ci devi fare la cortesia noi da un po' di tempo non ti capiamo più prima eri come noi facci la gentilezza fai una fatta un'altra compagnia non sono stato io ad abbandonare loro ma sono stato loro ad abbandonare me c'è il mondo al contrario Dio mi ha mantenuto fedele sono 46 anni per grazie di Dio è cioè o giovani faccio quasi mezzo secolo e chiunque mi vedeva dice questo non dura questo non dura questo no fratelli se ci fidiamo delle nostre forze state tranquilli possiamo fare le più grandi esperienze non ci si arriva però sarà sostato di insicurezza che mi hanno messo addonso la fanno ce la fanno mi avrà traumatizzato ora io sto sempre ad aggrapparmi al signore e questa cosa molto probabilmente mi ha aiutato questa mancanza di sicurezza di me e avere più sicurezza nel signore affidiamoci a Dio io ti posso dire tranquillamente cioè servire al signore è una cosa stupenda meravigliosa e voglio prima di introdurre prima di condividere con voi la parola voglio dire questa cosa però mi dovete promettere che non mi giudicate va bene confido nella vostra semplicità io mi sono convertito sostanzialmente non ho un altro termine se ce l'avessi l'avrei pure usato per convenienza eh lo so eh e già lo sapeva visto ho perso la vostra credibilità c'era una voce dentro che mi diceva state zitto state zitto brutto vizio che quello di quello che penso dico è una cosa pazzesca ma ormai mi sono rovinato con le mie mani eh perché convenienza allora io ho detto che stavo bene il diavolo mi dava quello che mi poteva dare discoteca amicizie e giustamente pure lui ha i suoi supporti si affatica si impegna si impegna poi quando mi è stato presentato l'evangelo cioè il mio è stato un calcolo allora il diavolo ha detto guarda che ti do e Gesù ha detto guarda che ti do fratelli ma ci rimanete male io mi sono fatto i quattro conti ho detto mi conviene Gesù cioè ma voglio essere guardate forse sembra perché quando uno sente l'evangelo oddio se devo passare sto guaio lo voglio passare come se l'evangelo e la conversione come se fosse un guaio che uno ma adesso goditi la gioventù quando però devi passare sto guaio più in là invece non è un guaio perché io ho fatto i miei calcoli ho detto Gesù mi offre di più scusa ho detto al diavolo se permetti non sarò un matematica per carità ma qualche conticino lo so fare e vi devo dire a me Gesù mi ha offerto di più se mi avesse offerto di più il diavolo evidentemente sarei rimasto di là Gesù mi ha detto ah ti do questo ti do questo io mi sono trovato bene gloria a Dio insomma fratello ma voi pensate che sto scherzando io mi sto dicendo la verità se io stavo bene ma ci sarei rimasto e che non stavo bene 15 anni tu hai tutto ogni ben di Dio hai traumi insomma una famiglia modesta di di sceto medio mi arrangiavo e adesso che fai mi scappi dalle mani e ha detto che vuoi Gesù mi ha dato di più e mi sono convertito gloria a Dio quindi fatela a fare ma perché mi vedete triste a me no mi sono convertito e purtroppo fratello ho dovuto fare questa scelta non avrei mai voluto sto tranquillo sereno vivo lavoro in un ufficio dei colleghi e sono loro che vengono da me a chiedermi ma come mai c'è questa pace cioè sono loro che chiedono a me ok e piangono e chiedono di pregare per loro sono loro sono loro che vengono e dicono ma vuoi pregare per me quindi è loro che fanno la richiesta non è che sono io digli no ti devi convertire sono loro che vengono quindi evidentemente per grazia di Dio come ogni figlio del Signore siamo in grado di di dare quello che il Signore gratuitamente ci ha donato se voi pensate che questa è l'integra l'introduzione provate a immaginare quello che sarà la predicazione ma io mi vedo sorridenti felici no non preoccupate non farò come quel fratello pastore Samuele che disse sarò breve come dicevo un'ora fa no leggiamo allora un solo verso leggeremo un solo verso avrei potuto leggere buona parte di questo capitolo che comunque interessante però sostanzialmente quello che mi rimane un po più impresso è una parola un termine e quindi forse è meglio concentrarci su questo unico passaggio delle scritture si trova nel libro del Deuteronomio al capitolo 28 leggiamo vogliamo alzarci vogliamo alzarci vogliamo alzarci Dio vi benedica vogliamo leggere il verso 32 libro del Deuteronomio capitolo 28 leggeremo il verso 32 addio la gloria i tuoi figli e le tue figlie saranno dati in balia di un altro popolo i tuoi occhi lo vedranno e ti si consumeranno per il continuo rimpianto e la tua mano sarà senza forza accomodatevi pure immagino che in qualche modo avete intuito il termine sul quale noi proveremo a riflettere il messaggio di questa mattina ho chiesto alla regia di proiettarlo è proprio questo non vivere di rimpianti non vivere di rimpianti allora questo capitolo è molto molto lungo all'interno del quale Mosè fa una serie di raccomandazioni dice adesso state per entrare nella terra promessa è questione ormai di pochissimo però non pensate che ormai avete messo piede in questo territorio che Dio vi ha promesso però ricordatevi che la vostra stabilità la vostra permanenza dipende anche dalla vostra fedeltà perché il giorno che voi vi mettete in testa di allontanarvi da me dovete essere consapevoli che il nemico avrà la meglio su di voi quindi questa eredità rimane in funzione di un legame di una relazione che è l'ubbidienza alla mia volontà e per quanto riguarda le benedizioni qui è suddiviso in benedizioni e maledizioni e quando riguarda le benedizioni ci sono sono dedicati quattordici versi alla benedizione mentre alla maledizione dove Dio dice guarda ascolta io ti ho dato questo tu ascolta la mia parola non ti montare la testa confida in me non ti perdere per strada io ti benedirò e ti darò ancora altro però è giorno che tu cominci a insuperbirti cominci ad essere sicuro di te eccetera eccetera sappi però che tu avrai dei problemi fino ad essere scacciato fino a perdere questa eredità che io gratuitamente ti ho data e per la maledizione vengono invece dedicati cinquantacinque versi ora questo Dio lo fa per che cosa non per terrorizzare quasi minacciarci lo scopo di Dio è solo di marcare evidenziare la nostra attenzione dice guarda ecco è un modo è un linguaggio con il quale lui vuole dire non la prendere sotto gamba non essere superficiale fai attenzione è solo una sua premura non è un Dio che gli piace minacciare è un Dio che preferisce avvertire fai attenzione e approfitto per fare provare a fare la differenza tra paura e timore paura no Dio non vuole che noi abbiamo paura la paura è quando tu temi solo un giudizio quindi una cosa non la fai perché dici vabbè ci sono delle conseguenze e non la faccio non è tanto questo che Dio vuole piuttosto lui preferisce il timore qual è la differenza tra paura e timore è che il timore si vede la conseguenza ma si preoccupa piuttosto di non recare dispiacere io so che avrò dei problemi ma mi dispiace se quello che poi io faccio arreca dolore a una persona che mi ama non so se sono stato chiaro in questo quindi Dio preferisce timore lui ti ama ti ama profondamente ti ama svisceratamente stravede per te stravede fino all'inverosimile però fai attenzione perché Dio non prova piacere non prova piacere quando noi pecchiamo quando noi cadiamo ah che bello non vedevo l'ora no no assolutamente il cuore di Dio è ferito mi dispiace come come un papà come una mamma come un genitore non potrà mai rallegrarsi che il proprio figlio abbia fatto delle cattive esperienze non vuole non vuole e quindi c'è un dolore nel suo cuore il timore è di non recargli questo dolore quindi lo scopo è fai attenzione fai attenzione tornando al rimpianto che cos'è il rimpianto ho sono andato sul dizionario così non mi sbaglio il rimpianto è una reazione negativa consapevole ed emotiva e comportamenti avuti nel passato quindi il rimpianto si proietta ciò che già è avvenuto generalmente viene accompagnato da tristezza o imbarazzo che si manifestano dopo che una persona si rende conto che avrebbe dovuto fare una determinata cosa e non l'ha fatta attenzione non confondiamo il rimpianto con il rimorso il rimorso ha un significato completamente diverso anche se assomiglio un po' ma non è completamente diverso perché il rimorso è riferito a qualcosa di sbagliato che abbiamo fatto il rimpianto è quello di non avere approfittato di una occasione ho trovato anche delle frasi sul rimpianto mi sono un po' allargato per ho preso delle frasi di uomini conosciuti non conosciuti che hanno parlato di rimpianto e vabbè vi dico solo alcune non tutte qualcuno ha detto è meglio avere qualcosa da ricordare che qualcosa da rimpiangere un altro ancora pensate questo è forte avremmo voluto avremmo dovuto avremmo potuto queste sono le parole più dolorose del linguaggio esiste un deposito dove vengono raccolte tutte le occasioni perse e gli appuntamenti mancati il nome di questo deposito è rimpianto e va bene ne dirò ancora qualcun altro provaci il dolore è temporaneo il rimpianto è per sempre quando si parla di rimpianto in questo termine ho trovato almeno quando si parla di rimpianto ho trovato almeno tre significati con questi si può descrivere meglio il rimpianto ora dovete sapere che quando Gesù in più di qualche occasione ma in una particolare si è trovato a guardare Gerusalemme da lontano e Gerusalemme non erano certo le mura ma erano le persone e lo ha fatto con lacrime lo ha fatto con dispiacere e diceva Gerusalemme Gerusalemme quante volte avrei voluto raccoglierti come la chioccia usa questa immagine raccoglie i suoi pulcini una bella quante cose avrei voluto fare quanti propositi aveva Gesù nei confronti delle persone e quanti progetti e idee e piani Dio ha con noi però questa espressione così bella si conclude con una frase che è drammatica ma voi non avete voluto io non vorrei che stasera l'opera del nemico potrebbe essere proprio quella di di creare degli ostacoli delle incertezze insomma di non permettere a Dio di fare quello che di bello vuole iniziare o continuare nella tua vita però prima di tutto cosa significa quando si parla di rimpianto il rimpianto la prima cosa che ti fa pensare è alla sua preziosità cioè se una cosa a me non ha valore ma rimpianto di che ne ho rimpianto ne ho dolore se ho capito che quello che dovevo fare era così bello così importante così prezioso mi sono lasciato sfuggire questa opportunità è un pregio è un valore è una rarità e quindi il signore stamattina ci dice non vivere di rimpianto tu non hai idea cosa Dio ti sta mettendo davanti non ti lasciare ingannare dalla da due aspetti delle cose di Dio la quotidianità e la gratuità non pensare perché poi le cose preziose acquistano magari un significato una tantum il momento vi è capitato quella volta no la cosa bella e meravigliosa è che questa preziosità è quotidiana è qui stamattina ti sta passando davanti è vicino a te devi cogliere l'attimo devi comprendere quanto di bello ed è meraviglioso quando Dio dice voi non immaginate i pensieri che io nutro per voi i pensieri che io medito medito è qualcosa di esecutivo di propositivo di importante i pensieri che io medito per voi non sono pensieri cattivi sono pensieri belli perché ti voglio dare un avvenire e una speranza non ti lasciare ingannare del luogo di persone normali o di un predicatore ordinario non è questo che deve attirare la nostra attenzione ma il messaggio che ti sta passando davanti quante persone hanno trascurato Gesù proprio per la sua quotidianità anzi c'è stata un'occasione all'interno di una sinagoga a Nazareth che si sono fatti problemi perché era troppo normale e non l'hanno creduto perché era troppo normale o è possibile figlio di un falegname ma non lo posso accettare è possibile che un figlio del falegname mi può dare qualcosa di così importante faccio fatica quello che creava problema a queste persone era il suo pedigree il suo curriculum che Gesù non era figlio di un sommo sacerdote non era nato a Gerusalemme piuttosto in una borgata di nome Betlemme vissuto in un villaggio di Nazareth che tra l'altro nell'antico testamento non viene mai menzionato una sola volta non ti lasciare ingannare perché stamattina c'è una grande opportunità è molto prezioso più prezioso dell'oro più prezioso dei diamanti e non lasciarti ingannare neppure per la sua gratuità sai perché è gratuito non perché non vale niente perché stai più seguro che è costato la sua gratuità ha la funzione che per il suo valore non è a disposizione dell'umanità perché non ha un prezzo con la quale la si può stabilire la sua importanza è inestimabile l'unico percorso per farci partecipi è la gratuità c'è un cantico non so se voi lo conoscete e dice se la salvezza del signore si potesse comprare è un modo per dire quanto è grande solo il ricco l'avrebbe mentre il povero no io aggiungerei che neanche il ricco lo potrebbe avere perché a un uomo è stato detto e di soldi ne aveva gli aveva speso tutta la sua vita per l'economia per le finanze per costruire un futuro qui sulla terra ma arrivò il giorno in cui quest'uomo anzi una notte Dio lo chiamò quell'uomo morì e la domanda fu adesso cosa darai tu in cambio della salvezza dell'anima tua metti i soldi qui sul tavolo e dimmi quanto adesso costerà la tua salvezza quell'uomo non fu in grado di comprare con tutte le sue ricchezze la salvezza del Signore l'unico modo attraverso il quale ci può essere partecipato è la gratuità e quindi non ti devi ingannare che non costa nulla non vale nulla no non costa nulla in termini economici perché è l'unica maniera con la quale Dio può condividere un qualcosa di così grande e prezioso potete dare gloria a Dio per favore mi sembra che la Bibbia dice che il Signore ha posto un tesoro nei nostri cuori c'è il mio corpo il tuo corpo è il cavo potete dare gloria a Dio non ti senti dico sai chi c'è dentro di te il più onnipotente tu hai il dono più grande se tutto ti venisse a mancare tu sarai sempre la persona più ricca l'apostolo Paolo nelle sue epistole ci teneva a precisare a coloro che sono ricchi in questo mondo c'è una ricchezza economica e c'è una ricchezza spirituale il rimpianto si vive quando so che mi è stata data un'occasione che era preziosa e io non ho colto quella opportunità e allora piango ma guarda un po' avrei potuto avrei voluto dovevo farlo ma non l'ho fatto non vivere di rimpianti io non so per chi è in particolare questa parola sì probabilmente per la salvezza d'accordo d'accordo ma forse anche per qualcuno che il Signore sta chiedendo qualcosa ti sta aprendo una porta e stai facendo resistenza ti sta chiamando a fare qualcosa una qualsiasi cosa e ti stai facendo mille problemi lavorativi lavorativi voglio raccontare una mia esperienza che oggi che la racconto è stata così grande che faccio ancora fatica cioè la racconto dico ma riflettici bene lo raccontate questa è la seconda volta che la racconto faccio fatica perché la vedo troppo esagerata io sono stato chiamato a lavorare nella regione Lazio per la promozione turistica di alcune località dei castelli romani tra l'altro stupende frascati grotta ferrata montecompati rocca priora lì ci sono delle ville d'incanto c'è la villa do brandini stupenda dove c'è ancora il principe la principessa e ci sono dei giardini meravigliosi ci vuole un permesso per entrare io avevo questo poi tra l'altro questa è stata forte la regione Lazio fece arrivare un fotografo di fama non dico mondiale europea io non ne sapevo molto di questa persona so soltanto che quando lui pubblicava una foto almeno 4 milioni di persone in Francia in Svizzera in Inghilterra vedevano quelle foto era un reporter di grande prestigio e mi fu chiesto di andare ad accompagnare per fargli vedere queste ville e io lo portai gli illustravo un po' e lo portai alla villa al do brandini lui ebbe l'idea disse senti ti fermi un attimo io avevo la villa al do brandini alle spalle e disse ti appoggi un attimo sul c'era questo davanzale questa una struttura molto interessante mi appoggia così beh pensavo che lui stava fotografando la villa al do brandini e fece questo scatto finita lì dovete sapere che il turismo non porta effetti immediati si fa una cosa oggi e ha degli effetti economici a partire da un anno in poi cominciavano ad arrivare inglesi tedeschi francesi svizzeri e quando entravano nel nostro ufficio mi guardavano e dicevano oh you are the princess facevo io sorry facevo la foto ma mi ha fatto la foto e io stavo sul davanzale così e stava scritto questa è la villa del principe aldo brandini che ero io il principe pazzesco è una parentesi questa mica la storia solo che per andare a fare questo lavoro fratello io avevo quattro chiese di cui una sull'isola l'isola di di Ponza e quasi tutta la settimana ero preso e pregavo il signore ma io abito lontano ci vuole un'ora per andare a lavorare ma come faccio a volte quando arrivavo in chiesa chiedevo ai fratelli che iniziassero la presidenza ma io tra l'altro era il mio lavoro e pregavo il signore signore ma è possibile aiutami un attimo come devo fare queste realtà della regione Lazio erano state pensate istituite negli anni sessanta c'era una legge la 1042 fatta dal Parlamento e io pregavo il signore io non so come uscire adesso come faccio non c'è possibilità di fare mobilità come fa e pregavo ora voi mi direte del fanatico fratelli miei il Parlamento si incontrò no signore annullò la 1042 passore passore Samuele dissero ai dipendenti della regione Lazio di questi uffici che erano dislocati affrascati fate domanda dopo 40 anni annullarono una legge Dio era arrivato nel Parlamento sai che cosa ti voglio dire ti voglio dire che quando c'è volontà Dio ti apre le porte noi dobbiamo adottare la stessa maniera di Daniele Daniele decise non voglio contaminarmi con le vivande del re ci sono alcuni cibi che la legge mi vieta io non li mangerò non disse nella preghiera signor io tu sai certe cose non le posso io mi trovo in un paese straniero qui c'è pure una cultura oh signor se tu mi apri la porta io non mangerò no no lui prese la decisione io comunque non lo faccio e quando noi prendiamo le decisioni Dio ti apre le porte non vivere di rimpianti e avrei potuto oh se l'avessi fatto un altro aspetto del rimpianto è l'accessibilità eh sì perché se è una cosa non la posso possedere eh eh rimpianto di che? non era la mia portata non ho niente da rimpiangere non lo potevo fare no quando si parla di rimpianto vuol dire che quella opportunità è a te accessibile se no non avrebbe senso c'è stato uno uno scriva che fece una domanda molto importante a Gesù disse signore qual è il più importante dei comandamenti? e il signore gli rispose ama il signore Dio tuo con tutto il cuore e ama il tuo prossimo come te stesso se queste due cose vanno insieme stai tranquillo che l'una rispetterà l'altra e lui comprese disse ah allora ho capito allora il signore non guarda non gradisce i sacrifici quello che Dio vuole è la nostra obbedienza comprese una grande verità quello che conta poi è importante la relazione con Dio e Gesù gli disse che bella frase tu non sei lontano dal regno di Dio non è lontano è vicino a te e questa è la grandezza di Dio sta passeggiando qua se tu lo vuoi lo puoi avere non è precluso non c'è un'elite non c'è un gruppo soltanto al quale può avere accesso è una disponibilità per tutti voi tutti che siete assetati voi tutti che siete aggravati venite chiunque vuole venga e prenda e beva dell'acqua della vita ci vuole coraggio è vicino a te ma c'è un nemico non ti devi lasciare impressionare non devi dire vabbè io lo vorrei so che è vicino ma ci sono delle situazioni più grandi di me più grandi di te ma non più grandi di Dio le dodici spie ovvero dieci di loro portarono la notizia che è bello è un paese bello portarono un grappolo d'uva era così grande che lo dovevano portare in due persone c'era una stanca che la portava erano i melograni fighe raccorsero dei frutti andarono all'assemblea 40 giorni avevano visitato il lungo e il largo vennero all'assemblea dissero è vero è vero Dio Dio ha detto che scorri la temina è la verità è la verità è bellissimo è un posto straordinario molto fertile però però ci sono i giganti noi non possiamo e non ce la faremo sono più grandi di noi noi davanti a loro sembravamo delle cavallette e c'era Caleb e c'era Giosuè che incoraggiavano quella folla il popolo e in mezzo a noi c'è qualcuno più grande di Caleb c'è lo spirito di Dio che ti sta dicendo ma ce la puoi fare ce la farai è più forte ci sono dei giganti ci sono delle ostacoli ci sono delle montagne ma il Signore queste montagne le farà diventare pianura non ti arrendere devi essere coraggioso Satana fa lo spavaldo ma è uno spaventapasseri le sue minacce per lo più sono di natura psicologica e vuole convincerci ma non lo puoi non gli puoi dare questa opportunità più che ascoltare la voce di Satana ascolta la voce dello Spirito Santo ce la farai coraggio se c'è un'opportunità che ti sta passando non dire ma io forse gli ostacoli e questo e quell'altro la famiglia e altre situazioni non è vero non c'è cosa che Gesù non possa spezzare era un pomeriggio un giovane venne a casa mia era uno dei più famosi tossicodipendenti della zona disperato venne a casa mia ci conoscevamo il pastore Samuele ma così di vista niente di importante non so cosa lo portò da me bussò alla porta di casa mia io stavo lì riposando niente di che bussò alla porta disse fece il suo nome che c'è dice Archetto io sono disperato ho questo problema non riesco a liberarmi uso di tutto di più io so che tu preghi il Signore so che tu appartieni a una fede aiutami fai qualcosa dammi qualche incoraggiamento io venne anche un po' preso di sorpresa perché non sapevo cioè non è che voglio dire che gli posso dire però dissi ascolta facciamo una cosa pregherò per te e non avevo altre armi perché quali armi ci abbiamo noi a volte la usiamo la preghiera perché preghiamo come quello è un cararmato la preghiera è qualcosa che fa tremare amen è qualcosa che è dominante noi abbiamo la parola di Dio e abbiamo la preghiera pregai imposi semplicemente le mani non credo di aver fatto una grande preghiera signore ti voglio pregare per questo mio amico lo conosco è venuto qua io non so i dettagli dei problemi lo vedo molto agitato molto impaurito ti prego signore aiutalo sarà durata pastore tre minuti non ho sentito un angelo non ho sentito il tuono non c'è stata una luce né una visione niente non ho sentito un bel niente tanto è vero che rimangere a noi dopo pregato sono ritornato a riposare passa un'ora circa che è? sono di nuovo io ancora? questo l'ho detto dietro ovviamente davanti facevo cioè io in quel momento non ero sincero come la chiesa di sorgente di vita mi trovo ancora più agitato di prima oddio Alessio e mo che gli fai? la preghiera l'ho fatta qua mo che gli devo leggere qualche passo della Bibbia non mi era rimasto molto archetto che c'è? non ci capisco più nulla che ti è successo? ti sei drogato un'altra volta il problema non è questo e qual è il problema? mi sono drogato ah mi ho detto bravo hai confessato il tuo peccato eh disse no c'è un problema è che l'eroina non mi fa più niente non si è drogato più non si è potuto più drogare pastore credetemi non mi hanno raccontato l'ho vissuta mi vado a iniettare la droga non mi fa più cioè non si è drogato perché la droga non aveva più effetti potete dare gloria a Dio se me l'avessero raccontato avrei avuto mille dubbi non si è drogato più perché era inutile drogarsi non aveva più nessun effetti quanto è grande il nostro Dio perciò ci vuole coraggio ci vuole tenacia avete mai sentito parlare penso di no perché neanche io l'ho sentito parlare stamattina sono andato sul telefonino a vedere una delle più grandi nuotatrici forse del secolo anche questo Florence May Chadwick l'avete mai sentita? ecco meno male non sono solo perché neanche io l'ho sentita e stamattina sono andato a vedere chi era stata una delle più grandi campionesse una donna negli anni 50 ha battuto dei record incredibili attraversava a nuoto delle maniche cosa da 34 chilometri nelle acque gelide ma ha avuto dei primati andate a vedere su internet ve ne parleranno è morta nel 1995 una campionessa donna questo è l'unico aspetto che no sto scherzando sto scherzando e le donne sono forti che gli uomini voglio avere diciamo l'appoggio delle sorelle quindi devo dare no le donne sono una benedizione ecco perché devono essere protette e devono essere rispettate sono una benedizione io mi affliggo sempre come le persone abusino con violenza devono essere rispettate amate perché sono una benedizione nelle mani di Dio ma non è questo il nostro soggetto bene Florence May Chadwick è stata una nuotatrice statunitense fu la prima donna a attraversare a nuoto la manica in entrambe le direzioni incredibile avanti e dietro il 4 luglio del 1952 poi non è che si fermava questo ne ha battuti di regola non si fermava mai fu la prima donna ad attraversare a nuoto lo stretto di Catalina praticamente un tratto di circa 34 chilometri che separa la costa della California e quando lei ha fatto questa impresa c'era la mamma e l'allenatore sulla barca che la incoraggiavano e beh vedete 34 chilometri sono 34 chilometri io provo a fare 100 metri a nuoto sono dovuti correre i soccorritori 34 chilometri lei nuotava era una una giornata molto fredda c'era della nebbia e e la mamma e l'allenatore la incoraggiavano forza Florence dai forza 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 almeno poi l'ha rifatto ma in quel momento non ce la fece ci fu una un incontro stampa dopo e lei non riuscì almeno in quella volta e insomma si arrese all'impresa a quelli che l'avevano poi fatta la domanda dice intervistati ma che cos'è che cos'è che l'ha scoraggiata come mai e le rispose vedevo solo la nebbia se avessi visto la terra ce l'avrei fatta perché la nebbia non li fece rendere conto che la riva era a cento metri e forse tu vedi solo la nebbia ma è vicino è più vicino di quello che pensi voglio concludere questo pensiero non solo per mettere in evidenza la preziosità l'accessibilità ma non posso fare a meno quando si parla di rimpianti pastore il suo significato è anche udite udite precarietà vuol dire che non è per sempre non è lì ad aspettarti che ti decidi che ti convinci e vabbè allora prenditi il tempo che vuoi io sto qua e ti aspetto è probabile che ci sia un tempo nel quale Dio ti concede anche questa possibilità però devi essere consapevole è precario oggi è l'invito della scrittura oggi se udite la sua voce non ve la prendete comoda perché quello che oggi Dio ti mette a disposizione domani non è più disponibile la conoscete la storia l'ho accennata prima delle spie che dissero che non era fattibile se leggete il capitolo dopo un gruppo di scalmanati parlano con Mosè adesso vogliamo andare vogliamo combattere Mosè disse no non ci andate non ci andate perché sarete fatti a pezzi ci dovevate andare ieri lo dovevate fare quando il Signore vi ha parlato adesso lo volete fare quando non è il momento non avete più questa possibilità è una precarietà non ce l'avrai sempre o molto molto schiettamente la Bibbia dice che è stabilito che gli uomini è quello che io leggo nella Bibbia è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta dopodiché viene il giudizio tu puoi essere il più grande mascalzone il più grande farabutto il più grande peccatore il sangue di Gesù ti perdonerà da ogni peccato però deve essere fatto durante la nostra vita perché dopo la morte non c'è più opportunità c'è stato un uomo che ha pregato dopo la morte ha detto padre Abramo ho cinque fratelli misericordia fagli parlare che devono credere magari se vedono un morto che risuscita ha fatto una preghiera bellissima è stata una preghiera bellissima abbi pietà di me una preghiera bellissima troppo tardi Abramo gli ha detto spiace è passato non posso fare nulla aveva avuto l'opportunità sei stato alla sorgente di vita è venuto quel pastore ordinario da Roma te l'ha detto ma chi ti aspetti che il signore venga con le ali che ci sia qualcosa di straordinario lo straordinario è questa qui è lo straordinario è che Dio si sta avvicinando a noi e Dio è sceso qui in mezzo a noi e la grandezza di Dio è che Emanuele Dio è venuto in mezzo a noi si è avvicinato a noi per un tempo c'è stato un uomo come Saú che per una sola pietanza si vendette alla prima genitura oggi nascere prima nascere dopo non fa nessuna differenza ma a quei tempi se nascevi prima io io sono spacciato perché su cinque figli sono nato ultimo quindi non mi interessa molto vendette la sua prima genitura infatti sapete che anche più tardi quando voleva ereditare la benedizione fu respinta sebbene la richiedesse con lacrime non la poteva ottenere tu hai oggi l'opportunità non vivere di rimpianti intraprendi una strada che poi ti renderà prigioniero mentre oggi Dio ti sta passando davanti e ti sta dicendo non aspettare non vivere di rimpianti tu non hai idea di quello che Dio ti sta mettendo davanti abbi fede in me è prezioso è per te ma è temporaneo perché passato questo treno non ci sarà un'altra opportunità voglio chiedervi di più